Questo Vangelo misterioso del ritrovamento di Gesù al Tempio mi ha sempre incuriosito. Non so, in qualche modo a una prima lettura mi sembra sempre un Vangelo quasi del tenore degli Apocrifi. Invece custodisce dei dettagli interessantissimi, quel nascondimento tipico della Sacra Famiglia. Mi pare intanto che il primo dettaglio sia questo, la Pasqua per Gesù, questo Gesù adolescente, non è il piano del Padre, non è quella Pasqua che abbiamo in mente noi, non lo è ancora. Piuttosto è la tradizione di suo papà e questo è bellissimo. Gesù è iniziato a una fede che è religiosa, cioè si esprime in atti di culto, di appartenenza. Questa Pasqua di cui si parla non è il piano del Padre, ma la tradizione di suo papà. Gesù conosce la Pasqua perché vi partecipa insieme ai suoi genitori. La tradizione religiosa è efficace proprio perché è passata insieme al sangue, al latte e all'insegnamento del mestiere. E proprio sul mestiere c'è il secondo dettaglio che trovo meraviglioso di questo Vangelo, quando si parla del ritorno a casa dove stava loro sottomesso. Nazareth, questi anni di silenzio, di nascondimento, però non sono anni di nascondimento del Padre, ma sono gli anni in cui c'è tutta la missione di quel papà, putativo, Giuseppe, che deve trasmettere un mestiere, che deve insegnare al figlio a porsi in mezzo alla sua gente, da stare nel mondo, a vivere una vita fatta di responsabilità, di laboriosità, di dedizione e di familiarità casalinga. Bellissimo questo Vangelo. La Pasqua che è la tradizione del papà, Nazareth, che è la missione di questo papà straordinario.